Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Alcune vite vengono spezzate in circostanze che lasciano davvero attoniti e rivelano come, purtroppo, un individuo riesca a passare inosservato fino a quando commette l'irreparabile. Gli omicidi di cui parliamo oggi sono stati commessi da un assassino che sfida la logica. Un uomo che lascia dietro di sé più domande che risposte, che ha sconvolto il mondo della cronaca nera e ossessionato quello dei social. Wade Wilson nasce il 20 maggio 1994 e cresce a Calassi, in Florida. Questo cognome, Wilson, gli deriva dalla famiglia che lo ha presto adottato, perché la madre biologica di Wade, che aveva solo 14 anni quando è rimasta incinta, non se l'è sentita di crescerlo. Sia a causa della sua giovane età, sia a causa dei problemi di salute mentale di cui soffre. Anche il padre biologico di Wade, Stephen Testa Secca, è un ragazzino. Aveva infatti soltanto 15 anni quando ha messo al mondo il figlio. Dunque la coppia ha affidato il bimbo ai coniugi Candy e Steve Wilson, che già conosceva perché frequentavano la stessa chiesa locale. E Wade cresce anche insieme a due sorelle. Wade colleziona buoni voti a scuola, ha tanti amici, pratica diversi sport e va spesso in chiesa come gli altri membri della famiglia. Però all'età di 13 anni, durante le vacanze estive, la sua personalità cambia completamente. Diventa un tipo solitario, ma soprattutto è piuttosto violento, ostile e paranoico. Stranesce che questo mutamento sia avvenuto dall'oggi al domani, ma sembra sia così. Improvvisamente Wade non vuole più uscire di casa, né interagire con i suoi parenti. Ha uno spesso cumulo di rabbia dentro di sé e crede che un alieno oscuro voglia fare del male a lui e alla sua famiglia. Quindi ogni mattina, mentre sua madre gli prepara la colazione, Wade arriva correndo giù dalle scale e distende il più velocemente possibile tutte le tende, convinto che qualcuno stia sorvegliando la casa. L'alieno intende attaccare e uccidere lui e tutti i suoi cari, quindi devono nascondersi. Dato che questa scena si ripete ogni giorno, Candy, la madre di Wade, ormai si arrabbia e lo prega di smetterla. Allora è Wade che si scaglia contro di lei, dato che è certo di agire per proteggere la famiglia. Sua mamma, secondo Wade, non capisce la gravità della situazione e non apprezza che lui voglia impedire un rapimento collettivo. In un'occasione Wade allarma suo padre Steve, dicendogli che in garage è stata posizionata una bomba in procinto di esplodere e ammazzare tutti. Steve chiama la polizia pensando che suo figlio stia dicendo la verità, ma, come immaginerete, tutto è accaduto solo nella mente di Wade. Diventa chiaro che il ragazzino è affetto dai disturbi psichici. In questo periodo soffre di ansia e depressione. I genitori provano in vanno a cercare aiuto e Wade continua a subire queste visioni deliranti. Per superare i momenti d'angoscia Wade scopre il mondo delle sostanze, ad appena 13 anni. Le sperimenta tutte, anche quelle pesanti, peggiorando la propria salute mentale, compresa la depressione. Inizia a meditare il suicidio e manifesta continui sbalzi d'umore. Diventa difficile gestirlo sia a casa che a scuola. La sua rabbia e la sua aggressività aumentano sempre di più. È necessario chiamare la polizia diverse volte. E in un'occasione Wade viene ricoverato contro la sua volontà in una struttura tesa a dargli aiuto e migliorare la sua condizione. La sua famiglia spera di recuperare il controllo della situazione, ma nulla sembra funzionare per Wade. Più in là nel tempo, quando ha 18 anni, Wade subisce anche alcune gravi ferite alla testa. Innanzitutto due commozioni cerebrali, una durante una partita di baseball e l'altra durante una di football. Poi, in un'altra occasione, Wade è in macchina senza cintura di sicurezza. Si schianta contro un albero e picchia violentemente la testa contro il cruscotto. Il grave incidente mette in pericolo la vita di Wade, tuttavia viene portato in tempo in ospedale e si riprende del tutto. Ma circa due anni dopo succede esattamente la stessa cosa. Wade fa un incidente automobilistico che gli procura una grave ferita alla testa e un relativo trauma cranico. Tutti questi episodi e le crisi epilettiche lasciano a Wade un danno cerebrale considerevole. Ormai 18enne, Wade lascia la scuola e commette una moltitudine di reati. Viene arrestato e incarcerato molte volte. È accusato di frode per violazione di domicilio, furto con scasso, rapina, crudeltà su minori e anche violenza intima. Tuttavia le sue pene detentive sono sempre di breve durata e lui, dopo ogni rilascio dalla prigione, si macchia di ulteriori crimini. In questo periodo Wade riprende i contatti con il padre biologico che, come detto, aveva solo 15 anni quando Wade è nato e attualmente ne ha 33. Il ragazzo si serve di lui come banco, ma gli interessano solo i suoi soldi per assecondare la propria dipendenza da sostanze. Non pensa mai di prendersi cura di se stesso, ma corre sempre da qualcun altro per risolvere i suoi problemi nel breve termine. Passa qualche anno e mentre Wade delinque ancora, entra ed esce dalla prigione, intreccia una serie di relazioni sentimentali di cui non si sa molto. Passa da una ragazza all'altra molto rapidamente e alla fine mette incinta una donna e ha una bambina da lei. In tutte queste relazioni Wade è un compagno violento, picchia le donne con cui sta, incarna il tipico soggetto abusante da manuale. È un affascinante e astuto manipolatore. Nel 2015, a una festa, Wade incontra una donna con cui si crea subito sintonia. Così i due decidono di appartarsi nella macchina di Wade per fumare un po' di sostanza leggera. Ma, di colpo, Wade diventa incredibilmente violento nei confronti della sconosciuta. Le ordina di posizionarsi sul sedile posteriore dell'auto, le stringe il collo con entrambe le mani e la minaccia ripetutamente di spararle se non soddisferà le sue richieste. Dopodiché, la sale intimamente e le ruba il cellulare per filmare l'aggressione. Dopo l'evento traumatico, la donna si rivolge alla polizia per sporgere denuncia, ma Wade verrà assolto perché racconta alla giuria che si era trattato di un atto intimo consensuale. Nonostante la prova concreta del video registrato, i giudici gli credono. Forse proprio perché, come detto, Wade è un autentico manipolatore. Nel 2018, l'uomo torna in prigione, anche se non emerge per quali accuse esattamente. Ora però devo chiedermi una cosa. Avete mai sentito parlare del caso di Mike Williams? È parecchio noto, anche se non ne ho mai discusso su questo canale, quindi vi faccio un breve riassunto. Mike Williams era scomparso nel 2000 e si pensava che fosse venuto a mancare a causa di un incidente in barca. Era caduto in acqua ed era stato mangiato dagli alligatori. Dopo 18 anni, cioè nel 2018, si scopre però che la morte di Mike non è dovuta a un incidente. Non era stato mangiato dagli alligatori, ma era stato ucciso da sua moglie, Denise Williams, e dal suo amante, Brian Winchester. I due volevano eliminarlo per stare insieme liberamente e avevano fatto sembrare accidentale il suo decesso. Ora sono certa che starete pensando, ma che c'entra Wade Wilson in questa vicenda? Ve lo spiego subito. Brian, l'amante di Denise, si trova in prigione per altri crimini. E solo in questo momento le accuse correlate all'omicidio di Mike si fanno strada contro lui e Denise. Il detenuto è assalito dal panico perché teme che Denise riveli la sua colpevolezza, quindi accetta l'aiuto di un particolare compagno di prigione. Proprio lui, Wade Wilson. Wade si offre come sicario. In cambio di soldi, non appena uscirà di prigione, ci penserà in prima persona a uccidere Denise. In realtà, alla fine, Wade, una volta libero, non porta davvero a termine il delitto. Ma durante il processo per l'omicidio di Mike Williams, questo complotto emerge. Quindi tutti i giornali indicano Wade come il sicario ingaggiato. Arriviamo alla fine del 2018, quando Wade è uscito di prigione ancora una volta a 24 anni. Inizia adesso una relazione con una donna di nome Kelly Matthews, la quale descriverà questo rapporto in diversi video caricati su TikTok. I due si sono conosciuti sul sito di incontri Plenty of Fish, si danno appuntamento sempre più spesso e Kelly considera Wade un bravo ragazzo perché ignora le sue bugie. Wade le si è presentato col nome di Steven e le nasconde sia che vive in una casa di accoglienza, dato che è appena uscito di prigione, sia che ha una figlia piccola, sia che assume assiduamente e vende anche sostanze dannose. Insomma, dato che Wade le ha mentito su tutto, Kelly non lo vede per quello che è in realtà. La relazione continua e Wade si trasferisce a casa di Kelly, in Florida. Vivono insieme per circa sei mesi e tutto va benissimo. Wade sembra il fidanzato perfetto. Trascorrono serate romantiche, Kelly lo presenta ai suoi amici e alla sua famiglia. Poi, un giorno, Wade recupera un carico di polverina bianca davanti a lei. Kelly è perplessa. Wade le aveva detto che non faceva uso di sostanze. Questo è il primo sentore che fa intuire alla ragazza chi è davvero Wade, ma lei non lo lascia. Decide solo di prestare più attenzione alle sue mosse. Inizia così a notare sostanze in giro, oltre agli oggetti che servono per consumarle. Allora Kelly affronta Wade sull'argomento, ma i due finiscono solo per litigare, perché Wade si mostra aggressivo. Questi liti non terminano nel migliore dei modi. Anzi, Wade butta giù a calci e pugni la porta sul retro della casa di Kelly e la minaccia, dicendole che ucciderà i suoi cani. Ormai Wade, è chiaro, non riesce più a nascondere il lato violento e prepotente della sua personalità, che c'è sempre stato. Isola Kelly dagli amici e dalla famiglia, le ruba i soldi e cerca di controllare ogni aspetto della sua vita. Inoltre tradisce la sua compagna ripetusamente e lei non reagisce, si limita a sopportare la situazione. Infine Wade e uno degli amici di Kelly svaliggiano la casa della ragazza, rubandole ogni oggetto di valore per poi scappare in Texas insieme. Kelly denuncia il furto alla polizia, che però, tanto per cambiare, non interviene. Inaspettatamente Wade torna da Kelly implorando il suo perdono, le promette che andrà in riabilitazione. Così la ragazza gli permette di tornare a vivere da lei. Tuttavia Wade non si insinua nella vita di Kelly ancora per molto tempo, perché il 18 febbraio 2019, sei mesi dopo l'inizio della loro relazione, Wade e Kelly hanno un'altra discussione pesante in macchina, proprio perché lui le aveva mentito sulle sue intenzioni di andare in riabilitazione a disintossicarsi. Kelly è molto irritata, siccome lui ha tradito di nuovo la sua fiducia. La discussione degenera, allora Wade ferma la macchina, si avventa su Kelly e le stringe le mani intorno al collo, come per strangolarla. Poi la aggredisce violentemente. Le rompe il labbro, le sbatte molto forte un piede contro la portiera dell'auto, le morde addirittura un orecchio e il mento. In poco tempo tutto il viso di Kelly è insanguinato, ma Wade estrae anche un coltellino tascabile e squarcia tutti i vestiti della sua compagna. Una volta che si ritrova nuda, lui la scaraventa sui sedili posteriori, la lega usando i lembi dei vestiti stracciati di Kelly e la aggredisce intimamente in modo selvaggio. Kelly è dunque sanguinante, ferita e traumatizzata. Sul web condividerà alcune immagini del suo aspetto mal ridotto, non le inserirò in questo video perché sono davvero orribili e inquietanti. Sappiate che mostrano i lividi che Kelly riporta su tutto il collo e il labbro rotto e gonfio. Ma non è finita qui, perché dopo questa violenza brutale, Wade le benda agli occhi e la abbandona lì, nuda sui sedili posteriori dell'auto con addosso una coperta. Subito dopo, Wade incontra un venditore di sostanze a cui consegna il telefono sottratto a Kelly come pagamento per ottenere la sostanza. Poi torna alla macchina e si reca a un McDonald's. Fa un'ordinazione tramite il McDrive, mentre Kelly giaccia ancora imbavagliata dietro di lui. Dopo questa sosta, Wade guida senza meta per un paio d'ore. Poi ferma la macchina, consegna le chiavi a Kelly e le dice che andrà a rimorchiare un'altra donna. Lei, ancora traumatizzata per quello che le è successo, appena Wade si allontana, si mette al posto di guida e va direttamente alla polizia per denunciarlo. Di certo ora non le importa nulla dei suoi tradimenti. Quell'uomo le fa chiaramente paura. Ma la polizia, di nuovo, non agisce, non fa nulla. Eppure Kelly è andata in ospedale dove hanno eseguito dei test per capire se fosse davvero stata aggredita intimamente e dove le hanno scattato diverse foto. Le accuse di Kelly sono supportate dalle prove, ma la polizia lo ignora. Quando interroga Wade, lui dice che il rapporto intimo era consensuale, anche in questo caso. Inventa chi a Kelly piaccia il sesto crude. Quindi la polizia lo lascia andare, chiude le indagini e archivia il caso. Poco dopo aver lasciato Kelly, Wade inizia una relazione con un'altra donna e purtroppo maltratta pure lei. Avvia poi una storia con un uomo e lo pugnala. È evidente, in ogni relazione che Wade intraprende, abbia la persona che gli sta vicino. Di seguito trova una nuova ragazza che però entra in contatto con Kelly, la quale l'avverte su tutto quello che Wade gli aveva fatto. Lui è chiaramente uno squilibrato, anche se la polizia non se ne preoccupa. Nell'aprile del 2019 Wade conosce una donna di nome Melissa Montanez, tramite un amico in comune. I due si piacciono molto e vanno prestissimo a vivere insieme. Ma Wade è violento fin da subito con lei. La picchia tutti i giorni e l'aggredisce intimamente. Così anche Melissa si rivolge alla polizia più volte a poche settimane dall'inizio della loro relazione. Ma gli agenti non le danno peso. Melissa prova a lasciare Wade tante volte, ma lui implora sempre il suo perdono, la manipola, la ammaglia e alla fine lei torna con lui. Tuttavia si sente intrappolata e isolata. Poi, dopo appena due mesi dall'inizio della loro storia, accade qualcosa di orribile. Melissa riceve degli sms e non è noto se a mandarglieli sia un ex fidanzato o un amico. Ma Wade si arrabbia così tanto da afferrare Melissa per il collo e strangolarla fino a farla svenire. Quando lei si riprende sembra relativamente illesa, ma pochi giorni dopo succede esattamente la stessa cosa. Anche questa volta Melissa se la cava, ma Wade, sempre in preda alla collera, la fa svenire stritolandole il collo una terza volta. Ecco cos'è successo. Melissa stava guidando e Wade è completamente impazzito alla vista di un messaggio giunto sul suo cellulare. Lei è saltato addosso e l'ha picchiata il più forte possibile. Melissa, assagrita dal panico e temendo di rimetterci la pelle, ha cercato di saltare fuori dalla macchina per scappare. Ma Wade l'ha afferrata per la gonna e l'ha tirata a sé fino a strappagliela dal corpo. Melissa quel giorno non indossava la biancheria intima, quindi è rimasta con addosso solo una maglietta. La ragazza voleva fermare qualcuno per chiedere aiuto, ma non c'era nessun'altra macchina in giro. È riuscita a correre via il più velocemente possibile, ma Wade l'ha raggiunta, l'ha presa per il collo e l'ha strangolata fino a farla svenire di nuovo. Questa volta però Wade non si ferma quando Melissa perde conoscenza. Piuttosto torna alla macchina, recupera un cavo elettrico e lega le mani della donna dietro la schiena. Quando lei si sveglia inizia a tirare calci e a urlare per tentare di liberarsi. Allora Wade tira fuori Melissa dalla macchina, le lega anche i piedi, la risbatte dentro e le benda di nuovo agli occhi. La trascina fino a una barca nei paraggi e la sale intimamente, anche da dietro. Melissa è terrorizzata, non ha mai vissuto un orrore peggiore. È convinta che Wade voglia ucciderla, anche se durante l'intero atto di violenza intima, lui le ripete che la sta aggredendo solo per darle una lezione. Dopo questa terribile sopraffazione, Wade picchia Melissa quotidianamente. Litigano di nuovo mentre lei è alla guida e, fortunatamente, in questa occasione, lei riesce a scappare fino a raggiungere la polizia. Una volta arrivata alla polizia, racconta dettagliatamente anche tutto quello che le era successo sulla barca, pochi giorni prima. Gli agenti vedono con i loro occhi le ferite che segnano il corpo di Melissa. Riporta numerosi lividi sulle braccia e sulle gambe. Ha entrambi gli occhi neri. Almeno questa volta la polizia non rimane con le mani in mano. Arresta Wade e lo trattiene in custodia per i successivi tre mesi e mezzo. Ma mentre è in carcere in attesa di processo, Wade telefona Melissa ogni singolo giorno. Supplicandola di perdonarlo, le dice che cambierà. Lo farà per lei. Insomma, riesce a manipolarla fino a convincerla a ritirare le accuse. Così, nell'ottobre 2019, Wade è un uomo libero e riprende la relazione con Melissa. Nella giornata del 6 ottobre, Wade, Melissa e un'amica di quest'ultima, Amy, vanno in un bar, bevono qualche drink, chiacchierano e si divertono. Passa qualche ora, dunque Melissa e Amy vogliono tornare a casa. Ma Wade inizia ad agire in modo strano. Si avvicina alle due donne con un uomo che è appena incontrato al bar, di nome Jason. Wade si comporta come se il tizio fosse il suo miglior amico e dice a Melissa e ad Amy che vuole proseguire la serata a casa di Jason e anche loro devono andarci. Melissa si rifiuta, ma Wade ha le chiavi della sua macchina in tasca e non gliele riconsegna. Non accetta un no come risposta. Gliele restituirà solo se prima andranno a casa di Jason. La sua ragazza però è stufa marcia, così lei e Amy chiamano un driver di Uber, nonostante Melissa non sia entusiasta di dover lasciare la sua macchina da 80.000 dollari fuori da quel bar. Ma non può fare altro. Wade quindi rimane al locale da solo, o meglio, con il suo nuovo grande amico Jason e la loro notte è ancora lunga. I due bevono un altro paio di drink, poi Wade si imbatte in una donna che lo colpisce subito. Il suo nome è Christine Melton. Christine ha 35 anni e abita in Florida in una casa a due piani che condivide con il suo gatto. Ama moltissimo gli animali e viene descritta come un'ottima amica e un'incredibile zia per i suoi nipotini e nipotine. È chiaramente una brava ragazza, studia estetica e make-up alla Saloon Professional Academy e sogna di diventare madre molto presto. Il 6 ottobre 2019, per sua sfortuna, si trova nello stesso bar frequentato da Wade con la sua amica Stephanie. Stephanie e Christine sono amiche fin dal liceo. Si erano trasferite dall'altra parte del paese insieme, avevano vissuto in Colorado per un po', poi si erano spostate a Cape Coral, in Florida, dove avevano lavorato entrambe come cameriere al Duffy's Sport Bar & Grill. Wade è proprio attratto da Christine e non gli importa affatto di avere una fidanzata, del resto ha sempre tradito tutte le sue partner. Wade si avvicina a Christine e si presenta dicendole di chiamarsi Junior. Lui e Jason offrono da bere a lei e alla sua amica, sono tutti in sintonia e la serata procede bene, al punto che Christine e Stephanie accettano di salire in macchina di Wade, lasciano il bar all'ora di chiusura, verso le 2 di notte. Wade estrae dalla tasca le chiavi dell'auto di Melissa e le porge al suo nuovo amico Jason, che si mette al posto di guida. Jason porta tutti a casa sua, offre ai suoi ospiti qualche drink e fumano un po' di sostanza leggera. Poi Wade, Jason e Christine assumono anche la polverina bianca e dopodiché Wade e Christine si ritirano nella stanza di Jason per consumare un rapporto intimo. Verso le 5 del mattino Jason vuole ormai andare a dormire a stufo, quindi butta gli ospiti fuori dall'appartamento e li saluta con la manina. Allora Wade fa risalire le ragazze in macchina di Melissa, accende il motore e tenta di fare retromarcia fuori dal bialetto, ma l'automobile non si muove. Lui preme il piede sull'acceleratore, però il veicolo emette un rumore strano e non parte. Wade, forse, ha dimenticato che quella macchina ha il cambio manuale e lui non la sa guidare. Dice alle due ragazze che è a corto di benzina perché non vuole far sapere che non è in grado di guidare quella macchina e si rassegna a chiamare un driver di Uber. Christine, Stephanie e pure Wade si ritirano a casa di Christine, sono circa le 5.30 del mattino. Stephanie però, vista l'ora, vuole tornare a casa propria, deve prepararsi per andare al lavoro. Così abbraccia Christine per salutarla e le dice che la chiamerà nell'arco della giornata. Quella di sentirsi quotidianamente è una loro abitudine, visto che sono inseparabili, migliori amiche dai tempi del liceo. Dopodiché Wade e Christine si dirigono in camera da letto per tentare di prendere sonno. Christine, in effetti, si addormenta, ma Wade rimane sdraiato a fissarla. Nota che il petto di Christine si solleva e si abbassa mentre lei respira e viene improvvisamente travolto dal desiderio di ucciderla. Non si sa da dove provenga questo impulso, cioè cosa stesse esattamente succedendo nella mente di Wade. In ogni caso, decide di salire a cavalcioni su Christine, le avvolge le mani intorno al collo e inizia a soffocarla, stringendo sempre di più fino a farle perdere la vita. Un delitto completamente insensato. Dopo aver ucciso Christine, Wade rimane a casa sua per un po', cercando di capire cosa fare del suo corpo. Si accorge solo ora di aver dimenticato il cellulare a casa del suo nuovo amico Jason. Allora si appropria del telefono di Christine, ma per sbloccarlo è necessario il riconoscimento facciale. Quindi avvicina lo schermo al volto senza vita della ragazza e riesce nell'intento. Poi arrotola il corpo di Christine in un tappeto e cerca di trascinarlo verso l'auto della donna. Ma è troppo pesante, così lascia il cadaveri in mezzo al salotto, ruba le chiavi della macchina della vittima, mette in moto e fugge dalla scena del crimine. Wade ha appena commesso il suo primo omicidio, è invaso dall'adrenalina e decide di tornare a casa della sua compagna, Melissa. Sono circa le otto del mattino, ma Melissa, grazie a Dio, non è in casa perché ha scelto di dormire dalla sua amica Amy. Wade la chiama dal cellulare di Christine, ma Melissa non risponde perché sta dormendo. Allora lui si infuria. Melissa si sveglia poco prima delle nove, guarda il cellulare e trova tutte quelle chiamate perse, partite da un numero che neanche conosce e che lo fa ancora squillare tra l'altro. A questo punto Melissa risponde chiedendo, pronto? Chi è? Poi riconosce immediatamente la voce di Wade e si arrabbia moltissimo per il suo comportamento della notte precedente. Esclama, Wade, cosa stai facendo? Dove è la mia macchina? Riportala, ne ho bisogno per andare al lavoro. La macchina di Melissa, però, è sotto casa di Jason, anche se Wade finge di essere alla guida in procinto di raggiungerla. Dice che in un minuto al massimo arriverà a casa. Melissa, però, spiega che è rimasta a dormire dalla sua amica Amy. E gli dà quindi appuntamento nel parcheggio della sua attività, una spa del centro in cui lavora anche Amy. Le due si preparano per andare al lavoro e quando arrivano davanti alla spa, Wade è già lì ad aspettarle. Ma non c'è traccia della macchina di Melissa. Infatti lui è sopraggiunto con il veicolo della sua vittima, Christine. Melissa ne ha abbastanza, sta davvero perdendo la pazienza, quindi esce dalla macchina della sua amica e le dice di non muoversi. Sa come è fatto Wade e non vuole che Amy lo venga a sapere. Si avvicina all'auto in cui è seduto Wade. Quest'ultimo abbassa il finestrino e Melissa gli chiede subito dove sia la sua macchina. Wade le ordina di salire a bordo immediatamente. Ma Melissa gli dice che se lo può anche scordare. Wade le lancia uno sguardo gelido e distaccato. Poi si scaglia contro di lei per tentare di trascinarla dentro attraverso il finestrino del lato guidatore. Melissa è terrorizzata ma vuole resistere e scappare. Così allunga le braccia e irrigidisce tutti i muscoli e Wade non riesce proprio a spostarla. Le strattone i vestiti ma Melissa non si arrende, resta immobile in quella posizione. Siccome Wade non riesce a trascinare Melissa attraverso il finestrino, spalanca la portiera e si lancia contro di lei. Entrambi cadono a terra ma Wade ha scordato di inserire il freno a mano prima di parcheggiare. Quindi l'auto inizia a muoversi e si sta schiantando proprio contro Wade e Melissa. Le sfiora le gambe per poi urtare contro un'altra macchina. Wade in pieno giorno in una zona molto trafficata colpisce ripetutamente Melissa. La schiaffeggia, le tira i capelli fino a strapparle le extension. Poi prova a strangolarla brutalmente. Amy, l'amica di Melissa, è paralizzata in macchina in preda al terrore. Fa per scendere dall'auto per aiutare la sua amica ma Wade si gira verso di lei e la minaccia dicendo se esci da quella macchina ti uccido. Amy quindi torna immediatamente al suo posto ma chiama il 911. Intanto Wade che forse si è reso conto del trattamento che sta riservando a Melissa alla luce del sole la afferra per il vestito e la trascina verso la sua attività. Un posto riservato. Melissa sa che non può permettergli di portarla lì perché la ucciderà. Mentre Wade sale le scale che conducono alla porta principale della spa lei si aggrappa con tutte le forze alla ringhiera. Wade infuriato le scaglia dei pugni in faccia per farle mollare la presa. Allora Melissa prova a farlo ragionare, cerca di temporeggiare perché ha intuito che la sua amica stava chiamando il 911. È solo questione di tempo, la polizia arriverà presto. Lo sguardo di Wade continua a essere duro e freddo, Melissa lo descriverà come uno sguardo da serial. Poi lui la colpisce così forte in faccia da produrre il rumore di uno scricchiolio. Wade le ha rotto il naso. Il sangue schizza ovunque e lo stesso Wade viene colto di sorpresa. Questo fa guadagnare a Melissa qualche secondo prezioso. È dolorante sì, ma trova la forza di scappare. Wade intanto sente le sirene della polizia in lontananza. Capisce che stanno arrivando per arrestarlo. Allora corre verso la macchina di Christine, ci salta dentro e riesce a scappare. Melissa è ferita, ma fortunatamente è ancora viva. Melissa racconta agli agenti tutto quello che è successo, ma non ha idea della direzione in cui si è andato Wade. Sono le 9.30 del mattino. Lui sta sfrecciando lungo la strada con l'automobile della sua vittima, fino ad arrivare a Cape Coral, quando nota una donna che cammina sul marciapiede. Il suo nome è Diane Ruiz, ha 43 anni ed è madre di due figli, Brandon e Zane, che ama più di ogni altra cosa al mondo. Lavora in un bar lì vicino ed è fidanzata con un uomo di nome Scott. La coppia è in programma di sposarsi presto. Diane viene descritta come una brava persona, premurosa e gentile, dalla risata forte e contagiosa. Quella mattina Diane sta andando al lavoro, quando Wade le si ferma accanto con la macchina e le chiede indicazioni per raggiungere una scuola locale. Gli chiede controllo gentile, sarebbe così gentile da salire in macchina con me? Noi non sappiamo se Diane sia salita volontariamente a bordo o se sia stata minacciata, costretta in qualche modo. In ogni caso, non appena si siede, Wade le avvolge le mani intorno al collo e inizia a strangolarla. Avrete intuito che ormai quest'uomo ha perso completamente il controllo e non smetterà di aggredire le persone che gli capitano a tiro fino a quando qualcuno non lo fermerà. Diane prova a combattere, ma Wade è più forte di lei. Riesce a sopraffarla fino a farla svenire. Wade guida fino a raggiungere un parcheggio di vicino circondato e nascosto dagli alberi. Appoggia il corpo di Diane a terra e nota che sta ancora respirando. E Wade non può proprio lasciare che viva. Deve ucciderla a tutti i costi, quindi risale in macchina e compie un gesto a dir poco agghiacciante. Investe Diane più volte, avanti e indietro, passandole sopra con la macchina. Lo spietato Wade descriverà il corpo di Diane dicendo che sembrava uno spaghetto. A causa delle gravi ferite, Diane perde definitivamente la vita. Wade trascina il suo corpo in macchina e lo scarica in una zona boschiva vicina. Poi fugge. Wade ora si isola, guida senza meta per qualche ora, finché verso le 15 del pomeriggio decide di fermarsi nel parcheggio di un ristorante, il Joe's Crab Shack. Come Wade ha sospettato prima di fuggire, la polizia lo sta cercando per l'aggressione ai danni di Melissa, pur non avendo idea che lui abbia anche commesso due delitti. Grazie a una soffiata, gli agenti scoprono che Wade si trova nel parcheggio di questo ristorante. È seduto in macchina senza maglietta addosso. Non segnala certezza, ma probabilmente questa informazione proviene proprio da Melissa, siccome Wade avrà cercato di rimettersi in contatto con lei per manipolarla ancora, rivelandole anche dove si trova. In ogni caso, un poliziotto ora si avvicina a Wade, riprendendo la scena con la sua bodycam. E gli spiega che deve trattenerlo, che lui deve restare calmo e attendere un altro agente che sopraggiungerà per arrestarlo. La mente di Wade sta galoppando, consapevole di aver ucciso due persone, anche se l'ufficiale è lì per l'aggressione che lui ha commesso ai danni della sua ragazza. Passano un paio di minuti e Wade si agita sempre di più, sta perdendo il controllo, allora l'ufficiale, temendo che la situazione degeneri, gli ordina di consegnargli le chiavi della sua macchina per evitare che fugga. Ma come previsto, Wade richiude il finestrino e parte a tutta velocità. Siccome il poliziotto crede che Wade sia ricercato unicamente per violenza domestica e non per omicidio, non si cimenta in un inseguimento, ritenendolo pericoloso per i pedoni in strada. Persone innocenti le cui vite non vanno messe a rischio. Wade allora guida fino a un negozio chiamato Matteo Graphics. È una serigrafia a Dancock Bridge Parkway, al cui interno lavora un uomo di nome Josh, che è un conoscente di Wade, al quale lui reputa opportuno chiedere aiuto. Le telecamere di sorveglianza mostrano Josh che guarda Wade e rimane scioccato dal suo aspetto. Non ha nessuna maglietta addosso, né le scarpe ai piedi. Indossa solo un paio di pantaloni della tutta grigi, è coperto di sangue e gli mancano pure un paio di denti, anche se non è chiaro come abbia fatto a perderli. Wade è frenetico, cammina avanti e indietro ripetendo a Josh, ho bisogno di te, puoi comprarmi un biglietto per l'autobus? Ho bisogno di un biglietto per l'autobus, ho un biglietto aereo, voglio andarmene da qui. Josh inizialmente pensa che Wade abbia assunto qualche sostanza che gli ha provocato un brutto effetto, ma poi Wade gli rivela, Josh, è grave, ho ucciso due persone la scorsa notte. Josh, come detto dapprima, attribuisce queste parole al delirio indotto da qualche sostanza, ma guardando a fondo negli occhi di Wade, capisce che quella non è una bugia, non sta mentendo, quella è l'orribile verità. Josh cerca di mantenere la calma e risponde, Ok Wade, vado nel retro del negozio, chiamo qualcuno che può aiutarti. Wade è convinto che Josh lo aiuterà, ma lui in realtà si allontana e chiama il 911. Forse Wade comincia a sospettarlo, infatti quando Josh torna lui è già sparito. La polizia arriva comunque alla serigrafia e individua la macchina di Christine, il che indica che Wade è scappato a piedi. Quindi la polizia perquisisce l'auto e scopre che è ricoperta di sangue e teme di trovare un cadavere nel bagagliaio. Ma si sbaglia. Allora controlla la targa per risalire al proprietario della macchina, ovvero Christine Melton. La polizia la chiama ripetutamente, ma lei non risponde. Allora gli agenti riescono a mettersi in contatto con Stephanie, la sua migliore amica, presente con lei al bar la sera prima. Ma quindi sa chi è Wade. Stephanie in preda al panico dice agli ufficiali che non sa dove sia Christine, l'ultima volta che l'ha vista è stato ore prima di mattina e riferisce di uno strano uomo incontrato la sera prima al bar. Ma lei sa che il suo nome è Junior. La polizia teme il peggio per Christine, si precipita a casa sua e purtroppo ha conferma dei sospetti quando si imbatte nel suo cadavere che giace in salotto. Ora Wade Wilson è ricercato per omicidio, quindi la polizia intensifica gli sforzi per trovarlo. Intanto Wade sa che deve nascondersi. Individua una casa che appartiene a una coppia, quella di Kent e Fanny, varca il cancello e cerca di entrare all'interno, ma non ci riesce perché la porta è ben chiusa. Allora fa un giro attorno all'abitazione e nota che il garage invece è accessibile. Lì dentro c'è una macchina aperta. Wade sale a bordo e orina nel portabicchieri del caffè. Pochi istanti dopo però la proprietaria di casa sopraggiunge e vede Wade che esce di corsa dal suo garage. Lei va a controllare e si rende conto del suo gesto disgustoso. Dopodiché Wade ha la fortuna di riuscire a entrare in un'altra casa dove non c'è nessuno. Attenzione, lui a questo punto è stanco, quindi decide di farsi una doccia alla stellina. Indossa dei vestiti rubati e puliti e siede sul divano. Distende i piedi, mangia dei popcorn, poi telefona al suo padre biologico, la persona che contatta solo quando ha bisogno di soldi. Ora gli dice che gli servono per uscire da una situazione difficile. Si esprime smagnoso, si intuisce che è in preda al panico, pervaso dall'adrenalina. Infatti suo padre gli chiede Stai bene? Cosa è successo? Wade allora confessa Papà, devo dirti una cosa. Ho ucciso due persone. Eh già, Wade racconta tutto a suo padre, anche i dettagli più agghiaccianti, inorridendo il genitore. C'è però un problema. Il modo in cui Wade parla degli omicidi è inquietante. Sembra quasi che si aspetti di ricevere dei complimenti da suo padre, di sentirgli dire bravo figliolo, sono proprio fiero di te. Il genitore in realtà si limita a domandargli perché l'hai fatto? E Wade risponde che proprio non lo sa. Voleva semplicemente uccidere qualcuno. Steve ribatte, ok, voglio aiutarti, dimmi dove sei così posso mandarti un Uber. Poi troveremo una soluzione. Wade fornisce l'indirizzo della casa in cui si è introdotto, ma suo padre non organizza davvero la sua fuga. Piuttosto chiama la polizia e rivela dove trovare suo figlio. In poco tempo, gli agenti arrivano, sfondano la porta e conducono Wade Wilson alla stazione di polizia. Vogliono interrogarlo sia sull'aggressione a Melissa, sia sull'omicidio di Christine, sia su quello della seconda vittima, di cui ancora non si conosce l'identità. L'assassino dice che parlerà con la polizia solo se gli verranno dati un hamburger e delle patatine fritte. Gli agenti accontentano la sua richiesta e allora Wade confessa. Quando i detective gli chiedono perché avesse ucciso Christine, Wade risponde volevo farlo e l'ho fatto. Quanto alla seconda vittima, Wade non rivela alla polizia il luogo in cui ha nascosto il suo corpo. La polizia però sa che una donna di nome Diane Ruiz è stata denunciata come scomparsa e sospetta che si tratti di lei. Dopo ben tre giorni, il corpo di Diane viene scoperto perché la polizia ha visto un avvoltoio che sorvola su una zona boscosa, come spesso capita nei pressi dei cadaveri. Quando i detective chiedono a Wade perché avesse ucciso Diane, lui fa spalluce ed esclama perché no? Ne avevo già uccisa una. La polizia ha abbastanza prove per accusare Wade Wilson dell'aggressione a Melissa e dei due omicidi. Viene trovato il suo DNA su entrambe le scene del crimine e si fanno avanti diversi testimoni. Tuttavia trascorreranno cinque anni prima che Wade vada a processo e in questo periodo di tempo lui è artifice di una moltitudine di buffonate. Partiamo dal 2020, quando viene sorpreso mentre tenta di evalvere dalla prigione. Lui e un altro detenuto di nome Joseph Katz hanno provato a manomettere le sbarre della finestra della sua cella. Poi Wade presenta una mozione tramite il suo avvocato per tentare di ottenere l'archiviazione del suo caso, chiede al giudice di ritirare tutte le accuse contro di lui facendo leva su una violazione del segreto professionale, in quanto spiega che i fascicoli del suo difensore, pertinenti al caso, sono stati hackerati ad aprile 2021. Sostiene che le dichiarazioni riservate e le inserite sono così diventate di dominio pubblico, per cui il caso non è perseguibile. Wade non sta raccontando una bugia, è successo davvero, ma il giudice spiega che il team di sicurezza informatica ha esaminato il fascicolo e lo ha ripristinato. Il giudice quindi non accoglie la mozione e le accuse contro Wade non vengono ritirate, giustamente oserei dire. Ancora, Wade viene sorpreso a smerciare sostanze in prigione e poco dopo si unisce a una gang carceraria di suprematisti bianchi. È a questo punto che si tatua tutta la faccia, come vedete in questa foto che vi metto ora. Il suo avvocato teme che la giuria si farà influenzare dal suo nuovo aspetto, che lo farà sembrare una persona pericolosa, quindi presenta una mozione per ottenere il permesso di coprire i tatuaggi facciali di Wade con del fondotinta. La mozione viene accolta, tuttavia quando Wade Wilson andrà a processo deciderà di non coprire nessun tatuaggio. Intanto il suo caso esplode sui social media, in particolare su TikTok dove alcuni utenti adulano Wade fino a renderlo famoso. Molte ragazze sottolineano quanto sia bello e sexy. Vengono postati diversi contenuti in suo sostegno corredati dall'hashtag SalvateWadeWilson. Ebbene, dovete sapere che ho letto qualche commento lasciato sotto questi post e li considero alquanto preoccupanti. Abbondano i cuoricini e altre emoji inopportune. In tante scrivono che Wade ha bisogno di aiuto e che non è colpevole. Ci sono account completamente dedicati a supportare Wade e la sua innocenza e io mi chiedo cosa passi per la testa di queste ragazzine, perché sì, sono tutte quante ragazzine. Quest'uomo orrendo ha già confessato di essere un assassino, eppure alcuni giovani fan si organizzano per condurre un'intervista a Wade Wilson mediante il telefono della prigione affinché lui possa rispondere alle loro domande. Io onestamente credo abbiano perso l'orientamento verso la ragione, lasciandosi furviare dal bell'aspetto e anteponendolo a delle azioni a dir poco mostruose. Comunque, Wade fa questa telefonata e risponde alle domande delle ragazze e sue seguaci che gli chiedono quale sia la musica che più gli piace o il suo colore preferito. Insomma, domande significative direi, di un certo spessore. Sempre mentre è in prigione, Wade viene avvicinato da un detenuto di nome Tristan Gendron, che gli chiede collaborazione per uccidere la madre di suo figlio per cercare di salvarsi dalle accuse di violenza domestica a lui rivolte. Wade chiaramente non può portare a termine il lavoro sporco in prima persona, dato che è in prigione, ma gli dice di conoscere qualcuno che può occuparsene. Tristan allora fornisce a Wade l'indirizzo di casa propria, il codice di sicurezza del garage, e gli promette una ricompensa di 200.000 dollari spiegandogli che i soldi si trovano in una cassaforte presso il Gendron's Funeral and Cremation Service a Fort Myers e rivelandogli il codice per aprirla. Wade, tra l'altro, rilascia un'intervista per la stazione televisiva NBC2. Il giornalista che lo conduce informa Wade che il pubblico, che ha preso del caso tramite i notiziari, lo definisce come un mostro. Wade però non è d'accordo, risponde con queste parole esatte. Non sono un mostro, non sono neanche un santo, in passato ho preso delle decisioni sbagliate, ovviamente tutti lo hanno fatto, ha la faccia delle decisioni sbagliate. Quanto al suo coinvolgimento nel piano omicidio di Tristan, Wade dice che non aveva intenzione di uccidere sua moglie, una persona che lui non conosceva e che, in quanto essere umano, meritava di vivere. In questa stessa intervista Wade si spinge anche ad affermare addirittura di non aver commesso gli omicidi di Christine e Diane, raccontando un'altra versione dei fatti. Spiega che aveva incontrato Christine al bar, che aveva avuto un rapporto intimo con lei da Jason e che si era ritirato a casa della ragazza dopo una notte passata a bere. Poi, il mattino dopo, gli aveva chiesto in prestito la macchina e il telefono e lei aveva consentito. Wade aveva bisogno di raggiungere il veicolo di Melissa da lui lasciato sotto casa di Jason e trasferirvi un po' di benzina ricavata dalla macchina di Christine, dato che l'auto della compagna non partiva. Come sappiamo, in realtà lui l'aveva abbandonato lì perché non era in grado di guidarla. Comunque, sempre secondo la nuova versione di Wade, non riusciva proprio a trovare la macchina di Melissa, perché non ricordava dove viveva Jason. Voleva allora tornare a casa di Christine, però non ricordava nemmeno dove viveva lei. Così aveva guidato in zona per ore e ore in cerca sia dell'automobile di Melissa che della casa di Christine e, mentre si spostava, aveva visto Diane, le si era accostato con la macchina per chiederle indicazioni stradali e lei gli aveva chiesto un passaggio. Ecco perché avevano trovato il DNA della donna nella macchina. Wade dice di aver accompagnato Diane fino alla fermata dell'autobus che lei voleva prendere per raggiungere il bar in cui lavorava. Ma è strano, visto che la donna viveva solo a due isolati dal locale, quindi non era necessario arrivarci con il pullman. Wade però sostiene di averla lasciata lì e poi di aver ripreso la vana ricerca dell'abitazione di Christine. Alla fine aveva deciso di fermarsi presso Matteo Graphics, il negozio di un suo conoscente, Joshua, il quale avrebbe inspiegabilmente mentito quando stava affermando che Wade era entrato nella sua serigrafia a torso nudo e insanguinato. Eppure le telecamere di sorveglianza all'esterno della serigrafia avevano ripreso Wade proprio in questo stato. Come potete vedere non aveva addosso né la maglietta né le scarpe. Quanto al sangue che lo ricopre, Wade dice che non era quello delle vittime che gli vengono attribuite e che racconta, ascoltate, ascoltate, siccome lui ama allenarsi all'aperto spesso esegue delle flessioni sull'asfalto e talvolta si procura dei taglietti alle mani. Insomma questa è la versione di Wade che insiste nel rinnegare la propria colpevolezza e cerca di screditare tutte le numerose prove che l'accusa ha raccolto contro di lui. Come detto il DNA di Wade è stato rinvenuto sui vestiti che Christine indossava quando è stata trovata senza vita e anche nell'auto della donna guidata da Wade. Lì dentro c'erano sia il telefono di Christine che quello di Diane, entrambi usati da Wade nel tentativo di contattare Melissa, la sua fidanzata. Infine l'accusa è in possesso della confessione che Wade stesso ha rilasciato alla polizia dopo l'arresto. Wade però afferma che quella confessione gli era stata estorta, che era stato incastrato ma non è l'autore dei due omicidi in quanto faceva parte di un gruppo criminale organizzato che si occupa del traffico di esseri umani. Ma poi lui aveva lasciato quel giro allora gli altri membri avevano agito per fargliela pagare. Gli avevano ordinato di assumersi la responsabilità dei due delitti altrimenti la sua famiglia sarebbe morta, compresa sua figlia. Questa spiegazione non quadra perché Wade aveva confessato non solo alla polizia ma anche al padre biologico Steven di essere un duplice assassino che poi se ci pensate ok io ve l'ho anche detto, ve l'ho citato, Wade ha chiesto un panino e delle patatine prima di confessare. Quindi voglio dire come può affermare che la confessione gli era stata estorta. Non ha molto senso, non ha molto senso. Sempre durante l'intervista in questione il giornalista chiede a Wade se fosse sotto l'influenza di qualche sostanza la mattina degli omicidi ma lui nega. Tuttavia Stephanie, l'amica di Christine, quando testimonierà al processo dirà che quella sera avevano usato e come delle sostanze. Il processo di Wade Wilson inizia il 3 giugno 2024 e dura appena cinque giorni. L'accusa chiama il banco diversi testimoni, inclusa l'ex fidanzata dell'imputato, Melissa, che ripercorre l'orribile aggressione subita per mano sua. Ma chiamano a testimoniare anche il padre di Wade. Il medico legale che aveva condotto l'autopsia su entrambe le vittime descrive il loro aspetto e le ferite riportate. Afferma che Christine indossava solo la biancheria intima. Il suo viso era di color nero blu astro. Aveva le unghie rotte e dei segni evidenti intorno al collo, dato che era stata uccisa tramite strangolamento. Diane Ruiz invece aveva il naso e l'ossoioide rotti e riportava fratture multiple nella parte anteriore e posteriore del corpo. Era stata tramurtita dallo strangolamento e infine deceduta perché era stata investita più volte. L'accusa si avvale delle prove del DNA che non lasciano scampo all'imputato, infatti la difesa di Wade non è in grado di fare molto per lui. Veniamo al verdetto. La giuria reputa Wade Wilson colpevole di tutte le accuse e al momento della sentenza deve decidere tra condannarlo alla pena di morte o all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. La difesa a tal proposito afferma che Wade non merita la pena di morte perché è affetto da un danno cerebrale causato dalle molteplici ferite alla testa accumulate in passato. Tale danno gli impedisce di ragionare come un essere umano mentalmente sano. Inoltre Wade potrebbe soffrire di un disturbo psicotico della personalità. L'accusa dal canto suo accoglie queste informazioni ma sostiene che non ci sono scusanti per le sue gesta. Alla fine la giuria decide di condannare Wade Wilson alla pena di morte. Tuttavia viene fissata un'altra udienza per stabilire se confermare la scelta o procedere con l'ergastolo. Dopo questo verdetto di colpevolezza e la possibilità che Wade venga condannato alla pena di morte il caso riesplode su TikTok. Molta gente è ancora convinta che lui sia innocente e qualcuno ha avviato petizioni raccolte fondi per Wade. Il detenuto ha ricevuto quasi 4.000 messaggi in carcere e più di 750 foto delle sue sostenitrice. A seguito della perizia psichiatrica emerge che Wade soffre di schizofrenia e disturbo bipolare della personalità. Martedì 27 maggio Wade Wilson viene condannato alla pena di morte. Tante persone hanno a lungo sofferto e soffrono ancora a causa di Wade come i cari delle due vittime di omicidio. Christine Melton viene descritta come una ragazza dolce e premurosa. Amava tanto i suoi animali domestici. Era la migliore amica e assisteva amorevolmente sua madre. Era inoltre la zia preferita di nipotine e nipotini. Christine sognava di diventare madre anche lei. La sua vita è stata annientata in modo insensato e brutale. Aveva solo 35 anni. Anche Diane Ruiz viene descritta come una persona premurosa. Era una mamma e aveva due figli che adorava. Faceva di tutto per aiutare il prossimo e aveva una risata contagiosa. Stava per sposarsi con il suo compagno. Aveva così tanti progetti per la sua famiglia, per i suoi bambini. Anche a lei la vita è stata strappata in modo feroce e spietato. Aveva solo 43 anni. Quanto a Melissa che stava insieme a Wade spero stia bene che si sia ripresa del tutto da quell'orribile aggressione. Mi sento di dire che è stata fortunata perché quella sera ha scelto di ritirarsi a casa della sua amica Emmy e questa decisione le ha salvato la vita. Io ne sono certa. Arriviamo quindi alle conclusioni. Wade ha compiuto degli atti atroci e mi domando perché così tanti ragazzini lo glorifichino. Perché cerchino di difendere un assassino che aveva pure confessato i suoi crimini. Non pensano alle donne che ha strangolato a morte senza alcuna pietà? All'aggressione violenta a cui ha sottoposto Melissa e anche altre ex del passato? Mi dispiace sono sinceramente disgustata perché chiunque difenda questo mostro non porta rispetto alle sue vittime, alle donne che hanno subito traumi o peggio perso la vita a causa sua. E trovo sia terribile anche che i due omicidi commessi da Wade non avessero un reale rimovente. Lui aveva ucciso Christine che conosceva solo da qualche ora e Diane che aveva appena incontrato per la prima volta. Inoltre nell'intervallo tra i due delitti aveva anche provato a eliminare la sua ragazza. A mio avviso quest'uomo avrebbe ucciso ancora se non lo avessero arrestato. Sarebbe diventato un serial. E pensare che la polizia in passato aveva spesso ignorato le sue malefatte verso altre donne lasciandolo pressoché impunito. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con me? Fatemi sapere qual è la vostra opinione su questo caso nei commenti perché ovviamente come sempre sono molto curiosa e ci tengo tanto a leggere tutti i vostri commenti e tutte le vostre opinioni. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!